Il progetto di HOM nasce da una idea condivisa tra un gruppo di aziende operanti nel settore dell'ICT che avevano avuto in precedenza occasione di collaborare e conoscersi. L'idea è attinente a una tematica dalle molteplici implicazioni sociali, ovvero l'ambient assisted living e le tecnologie assistive per un'utenza debole, quale potrebbero essere gli anziani o i portatori di una qualche disabilità. L'iniziativa si propone una sfida molto motivante, ovvero fornire delle soluzioni all'avanguardia alla società mirate al miglioramento della qualità della vita delle persone. L'idea è stata presentata e ha ottenuto un cofinanziamento da parte della Regione Lazio nell'ambito del bando Insieme per vincere, agevolando sicuramente il processo di investimento per l'innovazione delle singole aziende. Le attività di ricerca sono state mirate a comprendere tramite il contesto sociale e familiare dei soggetti target, tutti gli aspetti relazionali, funzionali e le problematiche legate alla disabilità cognitive o fisiche riscontrabili nella conduzione della normale attività quotidiana, tutto questo adottando però un modello che in prospettiva può essere applicato ed esteso a qualunque soggetto interessato alla propria sicurezza o al proprio benessere. Il principale obiettivo che la nostra soluzione si prefigge di ottenere è, attraverso il controllo e la gestione del daily living, è proprio l'aumento del livello di autonomia, di indipendenza e di serenità nelle case dei soggetti che per età o disabilità non risultino completamente autosufficienti. Tutto ciò tramite una presenza tecnologica integrata ma non invasiva, in grado di percepire attraverso dei sensori multimediali non solo lo stato dell'ambiente ma anche quello dell'utente e dei suoi bisogni. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!